Trovo grave le dichiarazioni del Presidente del Consiglio che dice mi metto nei panni di Salvini come è difficile fare politica, vorrei ricordare al Presidente del Consiglio e forse dovrebbe sostenere chi fa politica dalle mani pulite, non hai 49 milioni in cassa e non li sottrai gli italiani, ahimè prima gli italiani e trovo anche grave che il Movimento 5 Stelle che abbia fatto del grido onestà, 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 il vento del cambiamento non rompa il contratto con chi esattamente ha sottratto secondo la magistratura 49 milioni prima agli italiani, se è prima agli italiani può essere sordo come si dice a Napoli.